Dalle ultime indagini presentate risulta che le banche italiane hanno ormai preso consapevolezza dell'importanza dei canali social, ma hanno ancora timore in molte a iniziare questo percorso. Come superare questi ostacoli? Quando nel 2010 con Decision abbiamo cominciato ad approcciare le banche sul tema del social CRM, spesso ci sono state chiuse le porte in faccia perché ci veniva detto che il social le banche italiane non lo affronteranno mai. In realtà negli ultimi 4 anni molto è cambiato, molto più lentamente rispetto ad altri settori, però quello che è accaduto è che le banche hanno cominciato ad utilizzare il social come canale di comunicazione in primis, di marketing poi e adesso è diventato un vero e proprio canale di customer service. Quindi stanno approcciando a questo canale come di fatto approcciano tutti gli altri canali, quindi non rinventandosi la ruota ma utilizzando gli stessi processi, le stesse dinamiche che hanno utilizzato negli altri canali e quindi questo li rende più confortevoli nel viaggio verso il social. Si sta alzando anche l'asticella della loro presenza sui social? Assolutamente sì, nel senso che chiaramente più si usa un canale più si capisce il valore, più si vogliono fare cose. Quindi allo stato attuale è diventato un canale dove si può fare grande riduzione di costi, quindi è facile calcolare il ROI andando a misurare quello che si guadagna, per esempio risparmiando le chiamate al call center perché riesco a gestire conversazioni sul social oppure inserendo contenuti che sono di training, di educativi sul social che quindi limitano il numero di accessi al call center e quindi si ottiene un vantaggio economico dal punto di riduzione dei costi. L'asticella si sta alzando perché adesso ci si rende conto che il canale social può diventare un canale di vendita. Quindi questa relazione one to one con il cliente finale che ti scrive su Facebook o su Twitter chiedendo informazioni ormai è diventata il trampolino di lancio per una trattativa commerciale e quindi da qui ai prossimi anni sarà sicuramente quella la strada da percorrere per aumentare le vendite, migliorare la customer satisfaction dell'utente e ridurre il CERN in un mercato molto competitivo come quello bancario allo stato attuale. Serve però una strategia molto forte per arrivare a questo livello? Assolutamente sì, la strategia deve essere, deve essere ben, è una strategia legata a tutti i dipartimenti, quello che abbiamo notato sia qui che negli Stati Uniti è che l'approccio al social non può essere ridotto ad esilos interna dell'azienda ma deve essere trasversale più dipartimenti, quindi ci deve essere la comunicazione, ci deve essere il marketing, ci deve essere il sales e ci deve essere il CRM, in molti casi ci deve essere anche l'information technology, perché è arrivato il momento di prendere il dato social e portarlo all'interno del firewall aziendale per prendere decisioni basate sul dato transazionale e sul dato delle interazioni sui social network. Grazie. 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 Grazie.